C'è un allevatore che va a comprare l'ultimo modello di Mercedes della serie E e rimane scioccato per il prezzo eccessivo degli extra. Però Destino vuole che il direttore della Mercedes vuole comprarsi una vacca per la sua tenuta in campagna e chiama l'allevatore. L'allevatore gli manda sta fattura. Vacca alimentazione a fieno con pacchetto base 2400 euro, pacchetto country bianco e nero 750 euro, esterni in pelle 1000 euro. Pacchetto comfort, serbatoio latte 500 euro, quattro mammelle 120 euro cada uno in totale 480 euro, paraurti in corno 175 euro cada uno 350 euro, tergi mosche semi automatico 300 euro, di dietro maggiorato scarico, bucio del culo della vacca 600 euro, pacchetto all road, quattro zampe motrici a 2000 euro e zoccoletti ribassati versione sportiva a 1250 euro, totale vacca messa su strada 9630 euro.